So che devi andare a zancuolo, fermati ad ascoltare, resta ancora qui mio alonazer, C'è il video del venerdì So che devi andare Benvenuti al nuovo video del venerdì Manifesto Che cos'è il manifesto D'ora in poi Io Lo definiremo come un video in cui Io Mi piacerebbe avere dei cazzi In colo Mi piacerebbe avere i cazzi Dei ragazzi Dei genitori Degli insegnanti Dei presidi Di Maria De Filippi Scusate Vediamo se Come se ne si va Lo sapete che io Devo sempre Guardare se sta andando Oppure no Il mio cazzo Lo devo mettere Dentro Il mio amico Gay Angelo greco Sei una testa Di cazzo Che è diventata un po' Una moda Non giudico questa cosa Non è quello il problema Cioè Non mi interessa adesso vedere Se La lobby di Angelo greco Queste cose qua Non mi interessa assolutamente Non Cioè voglio Voglio soltanto farvi capire Adesso è diventata una moda Angelo greco Ci vergogniamo di qualcosa? Abbiamo paura di prenderci la responsabilità Di dire Angelo greco Sei una testa di cazzo Abbiamo paura di questa cosa È sbagliato È sbagliato Dobbiamo Dobbiamo Parlare di queste cose Adesso Dobbiamo Aprire Colore Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti